Dovendo dare una risposta anche alle altre persone che premono per essere vaccinati, l'invito che faccio agli over 60 è prenotatevi, usate a pieno questa opportunità che vi viene offerta. Avete ancora alcuni giorni, avete ancora dei posti per poter esprimere questa opportunità, questo gesto, questo diritto per sé e questo dovere anche per gli altri. L'Ulstre si appella dunque agli ultra 60 anni perché non attendano oltre, ora che è il loro turno, mentre la campagna vaccinale prosegue spedita. Arrivare a vaccinare i 50 anni, poi i 40 anni, significa andare a incidere su chi è più attivo nel contesto produttivo. Ecco perché è urgente completare la vaccinazione della classe 60-70 anni. Un altro appello alla popolazione arriva poi dai medici di base. È stata data per tutti quanti gli assistiti di potersi prenotare direttamente tramite lo stesso sito aziendale, esattamente come per gli altri hub, anche dal proprio medico di medicina generale, approfittando del fatto che in questo caso ovviamente tutto l'aspetto di valutazione del tipo di vaccino, di valutazione degli aspetti anamnestici, delle patologie che il paziente ha, è automaticamente fatto dal medico che detiene la cartella clinica e soprattutto la conoscenza del paziente. Mentre i dati dell'Ulstre attualmente sono tra i migliori della regione. Con una buona fornitura di vaccino e l'organizzazione che si è messa a regime, sia del Pala Expo che degli altri hub che abbiamo a Mirano, Dolo, Chioggia e a Venezia, riusciamo a dare una buona risposta alla nostra popolazione. Quindi abbiamo un'eccellente copertura sulle ore 80, molto buona tra i 70 e i 79. Resta ovviamente l'appello tra i 60 e i 69 di iscriversi. Grazie a tutti.